Questo serve per dargli il carattere e essere possessivo nei confronti dell'odore del tartufo. Dopo aver giocato un po', bisogna lasciarglielo, perché così lo acquista. E su, ha vinto. Le due stanno lì. Al posto dove la devi lasciare. Ora, notare quanto è possessivo se lo porto di acqua. Grazie.